Nella venticinquesima giornata del campionato all'Evilite, l'Atletico 2000 vince contro la Polisportiva Carso grazie al colpo di testa vincente del classe 2002 artistico, in una gara molto equilibrata e condizionata dal forte vento. I padroni di casa scendono in campo con Tocci in porta, Tortora, Gentile, Rizzo e Marzocca in difesa, Splendori, Enrichiello, Gabriele e Persia a centrocampo, Chiacchierini alle spalle di Maratea. Risponde la Polisportiva Carso con Dezzi fra i pali, Mancini, Roani, Marcucci e Marchetti in difesa, Viele, Rinaldi e Malizia a centrocampo, Formica, Passerette e Nania formano il tridente. Il primo tempo è bloccato e le occasioni da gol scarseggiano, la prima arriva al quattordicesimo sugli sviluppi di un angolo calciato da Enrichiello, Maratea colpisce in terzo tempo ma fa solo il solletico a Dezzi. Quella dell'atletico è solo una fiammata perché il resto della prima frazione vede gli ospiti maggiormente insidiosi. Al ventottesimo, su azione da fallo laterale, la sfera giunge a Rinaldi, il cui destro viene murato in angolo da Tocci. Sul successivo corner è clamorosa la traversa che Capitan Formica coglie a un passo dalla porta. Al trentacinquesimo, ancora da rimessa laterale, Rinaldi raccoglie la sfera e spara in porta. Ottima la risposta in due tempi di Tocci. Nella seconda frazione l'atletico 2000 cambia marcia e il match si accende. I primi due tentativi sono firmati Maratea ma entrambe le punizioni dalla distanza del numero 9 terminano sul fondo. Stessa sorte per il destro da fermo di Viele. Al diciannovesimo, lo stesso numero 4, Scudella in area, trova Anania, la cui zuccata finisce a lato. Cinque minuti dopo, il destro da fuori di Gabrielli viene smanacciato da Dezzi fuori dallo specchio. Al ventiseiesimo, grande chance per i padroni di casa. Su una punizione da centrocampo, artistico, si fa spazio fra le maglie avversarie e schiaccia di testa in porta, trovando la superlativa risposta di Dezzi. Sul ribaltamento di fronte, Formica si libera dal diretto marcatore e calcia in porta. Tocci imita il suo collega e salva in angolo. Le squadre si allungano, le occasioni si susseguono e il gol è nell'aria. A trovarlo è l'atletico 2000, grazie al sottoeta artistico, che in occasione di un campanile in area di rigore sale in cielo e colpisce di testa. La sfera si stampa sulla traversa, carambola sulla schiena di Dezzi e termina in fondo al sacco per la rete del definitivo 1-0 che vale tre punti pesantissimi per l'atletico 2000.